E queste note di Battisti ci predispongono subito al viaggio, alla vacanza e noi ne parliamo con la nostra ospite. Benvenuta, ben ritrovata Gabi Malacrida, portavoce per il Ticino di Utelplano. Grazie mille. Come va? Tutto bene? Benissimo, grazie. Poi l'estate si avvicina per cui... Ancora meglio. Ancora meglio, certo. Il viaggio, la vacanza, inizia immaginando, no? Con l'immaginazione. Le persone che si rivolgono a voi arrivano già con le idee chiare o no? Guarda, devo essere onesta, con l'avvento di internet penso che il cliente che arriva in agenzia è già un pochino preparato. Non toglie che però parlando poi con il consulente di vendita si sogna di più, ci si emoziona di più e tante volte può anche capitare che si sposti la propria destinazione su una destinazione di cui si è parlato e per la quale ci si identifica di più. Quali sono le mete, iniziamo subito a dare consigli, più forti, più gettonate per quest'estate? Guarda, prima di tutto dovremmo dividere le vacanze per le famiglie, che d'estate sono naturalmente il periodo più importante, e le vacanze invece per giovani o per coppie. Diciamo che per le famiglie quest'anno sicuramente le isole greche sono quelle che vanno per la maggiore, intendo quelle più classiche come Creta, Rodi, Cos, tanto per spiegarci un pochino. Poi viene la Spagna con Mallorca, Gran Canaria e viene anche per i più avventurosi magari una puntatina al nord con magari dei fly and drive per le destinazioni più legate, diciamo più vicine a noi. Per il lungo raggio invece andiamo già su Mauritius, Seychelles, Stati Uniti, Canada. Mi veniva da chiederti, hai detto insomma ci sono i viaggi per le famiglie, ma c'è un budget, un qualcosa su cui si può discutere? Su quanto si investe per una vacanza? Guarda, prima di tutto tengo a dire che per lavorare nel modo migliore la gente di viaggio ha bisogno di sapere del budget di cui il cliente dispone. Poi noi ovviamente facciamo le statistiche. Le statistiche sono dei numeri, quindi tu prendi il venduto e lo dividi sui passeggeri. In linea di massima tu puoi dire che mediamente per la vacanza estiva un cliente investe dai 1300 ai 1500 franchi. Insomma, mi veniva anche un'altra cosa da chiederti. Penso che, prima ci ho chiesto, arrivano con le idee chiare, ma ci sono richieste, insomma, anche un po' curiose che vi arrivano dai clienti che decidono di fare una vacanza. Ma certamente, perché io lo dico sempre, il web per le agenzie è un'opportunità, ma non è la soluzione di tutti i problemi o di tutte le domande. In questi ultimi giorni, quando ho saputo che ci saremmo visti, ho fatto un giro di telefonate nelle agenzie con le quali lavoro e ho chiesto alcune chicche un pochino particolari. Ecco, ci sono una coppia di giovani che ha organizzato quest'anno un viaggio in Cornovaglia in bicicletta. Vuol dire che sono partiti aereo, potevano noleggiare le bici sul posto, ma avevano anche un minivan che spostava i loro bagagli. Avevano già gli alberghi prenotati, l'itinerario fatto alla perfezione. Ci sono stati un paio di ragazze che so che hanno prenotato un trekking in Islanda. C'è stato un cliente che assolutamente voleva un lodge in Sudafrica dove potesse agire, interagire con degli elefanti. Interagire con degli elefanti. Quindi, vedi, le domande sono tantissime e certe domande ovviamente non le puoi trovare sul web, le risposte. Ma c'è un viaggio particolarmente avventuroso che avete organizzato? O questo, o chi cerca l'avventura tende magari a far da sé? No, io devo dire che ci sono dei viaggi che vengono organizzati e che sono avventurosi. Io nell'avventura ci metto magari anche un viaggio che tu fai in Tibet, piuttosto che in Cina dove se tu vuoi veramente fare un itinerario, non tutte le persone capiranno il tuo italiano piuttosto che il tuo inglese. Quindi l'avventura non è solo fare Harrison Ford e andare alla scoperta o cose di questo tipo. L'avventura vuol dire anche andare in un paese come può essere l'Uzbekistan o l'Iran, che adesso sono molto di moda, e trovare un'organizzazione tale che ti permette poi di conoscere il paese. Gabi, magari diamo dei consigli, uno o due, insomma, pratici, da dare prima di mettersi in viaggio. Non so, magari prepari la valigia... Il consiglio principale che io do, sia a chi ha prenotato in agenzia, sia a chi ha fatto tutto da sé in internet, è di andare nel sito del Dipartimento degli Esteri e cercare, seguire i consigli di viaggio e attenersi a questo. Questo è già una buona soluzione. Io personalmente ritengo che chi si organizza da solo il viaggio, deve poi sapere che in caso di bisogno magari non avrà un interlocutore che gli potrà trovare una soluzione in un momento di necessità. L'agenzia di viaggio, il consulente, è sempre un'ottima soluzione. Ma per esempio, adesso siamo proprio in conclusione, mi fanno... Ma nel bagaglio a mano? Allora, quello che faccio io nel mio bagaglio a mano è avere un cambio di biancheria. E vai. Una soluzione per il giorno dopo, nel caso non ti arrivano i bagagli, quindi un paio di scarpine anche proprio semplici, semplici, un pantalone, una maglietta, crema da sole e basta. Perfetto. Gabi Malacreda, grazie mille per essere tornata a trovarsi. Grazie a te e a te e agli telespettatori buone vacanze. Grazie anche a te.